Buongiorno a tutti, giorno 2 e questo è un video dal mio letto di dolore ho un torcicollo pazzesco, ho tutta questa parte che non riesco a muovere quindi oggi sicuramente non farò nessun tipo di allenamento stamattina mentre stavamo facendo colazione a un certo punto ho sentito un cric croc quindi ho questa parte qui bloccata adesso mi sono messa un po' di pomata di Voltaren e se non cambierà niente mi metterò il cerotto termico quello senza medicinali, però il calore mi ha sempre fatto bene non riuscivo a tenere il telefono in mano per fare questo video tra l'altro siamo fortemente piegati da un lato ovvero secondo me sì, perché ovviamente siamo sul letto con il treppiede è andato in onda, in onda, va ora in onda è andato online poco fa il video di ieri ho fatto un'altra pausa non ho la lucidità di parlare oggi tu dirai perché stai facendo questo video perché ho un attimo di tempo per stare da sola e lo volevo fare ma effettivamente non ho la lucidità di parola e neanche di pensiero credo quindi ho messo in pausa la rubrica un prodotto al giorno che è stato un flop totale perché veramente non ha avuto praticamente zero visualizzazioni veramente siamo tornati alla banda di 500 e manco di tutti i video quindi è stato un flop clamoroso mi rendo conto insomma di non parlare di degli ultimi prodotti in voga al momento però era un'idea come tutte le idee possono andare bene possono andare male me ne rendo conto per fortuna ecco che fare quella rubrica ecco quei video non mi è costato tanto tempo o energia o fatica quindi insomma va bene così diversamente insomma mi sarebbe sconciato un po' di più e niente quindi di prodotti non se ne vuol sentire parlare in questo canale è giusto perché effettivamente ha avuto un twist piuttosto netto negli ultimi anni quindi non siamo più agli albori del canale dove si parlava di beauty, prodotti, trucco eccetera e quindi è andato online poco fa il video di ieri quindi del giorno 1 della nostra quarantena preventiva favolosa per fortuna ieri era venerdì e quindi abbiamo il fine settimana quanto meno da passare tutti e quattro insieme poi da lunedì insomma si ricomincia un po' più a a faticare un pochino ora io credo che questo dolore sia la rappresentazione di tutto ciò che ho che sto accumulando da ieri il giorno 1 è iniziato un po' come l'avete visto e poi dall'ora di pranzo in poi si è trasformato in una giornata pesantissima non mi sono ancora ripresa mentalmente perché ho sofferto moltissimo l'inizio di questa clausura che probabilmente mi pesa molto più di quanto io non pensassi o non immaginassi però insomma dopo più di un anno arrivano poi i momenti in cui effettivamente ti accorgi di quanto le cose siano cambiate di quanto ti possano pesare un po' di più non mi è mai pesato particolarmente stare a casa mentre ieri ho iniziato a soffrirlo immediatamente ma sicuramente è anche perché sto avendo un po' di difficoltà con Eleonora e non avendo probabilmente la lucidità e la pazienza che dovrei avere e dovrei accumulare non avendo sfoghi ieri l'ho sofferta molto è entrata in un vortice non da ieri ovviamente ma già da un paio di settimane dei terribili due ma proprio con forse ieri forse ve l'ho accennato ieri mi pare di sì questo vortice di capricci di lamentele infinite di urla e di pestarsi per terra e di dire no a tutto per qualsiasi cosa ripeto l'urlo urlare e buttarsi per terra sono proprio quelle cose che ieri pensavo di finire al manicomio ho avuto proprio un momento bruttissimo in fase di pranzo mentre cercavo di mangiare io di far svegliare Tommaso che stava un po' con la testa fra le nuvole quindi di farlo mangiare di far mangiare lei che era in ribellione e poi per queste ribellioni per non si sa effettivamente che cosa ed è finito poi con lei che si buttava per terra che urlava che batteva i piedi fortissimo le gambe per terra io cercavo di togliere dei piatti da tavola insomma è stato un momento difficile che poi è terminato con me e lei sedute per terra in corridoio con lei che poi si è rilassata con me e si è addormentata in braccio a me ci sono giorni in cui io veramente fatico a mantenere la quadra cioè ho scritto poi un post su Instagram e grazie per tutti per tutto l'affetto che mi è arrivato e per tutto il supporto insomma fondamentalmente la solidarietà del non sei sola no grazie per averlo detto perché sono anche io così queste giornate ci sono e spesso non sono solo giornate sono veri e propri periodi se non mesi e anni in alcune case ed è veramente difficile talvolta sopportare in un momento in cui devi stare sempre al chiuso e Leonora non ha l'obbligo di quarantena come non ce l'ho io ma ovviamente io la faccio perché devo stare con Tommaso e noi la dobbiamo far per forza ieri mio marito e per fortuna ha tornato un filino prima e l'ha portata a fare una passeggiata all'aria aperta ovviamente evitiamo parchi aree bimbi aree giochi per forza perché evitiamo qualsiasi contatto proprio una passeggiata sono andati proprio verso piazza di Spagna cioè a fare le scale dice che ha camminato tantissimo si è stancata da morire è tornata a casa che era ancora elettrica ecco come se avesse questo eccesso di di carica di energia che ovviamente in qualche modo deve sfogare poi lei a differenza del fratello lei adora uscire quindi anche la mattina quando si veste perché dopo colazione ci si lava e ci si veste c'è il delirio del andiamo a mettere le scarpe usciamo andiamo col passeggino facciamo una passeggiata andiamo a fare un giretto eccetera eccetera cosa che non si può fare quindi anche proprio ripeto la mia soglia di tolleranza sicuramente è così bassa anche per questo proprio perché questa chiusura mi sta pesando sento di farneticare parecchio più del solito mi sento la testa così mi sento proprio come in un pallone come la popolazione del Vivi in C di tanti anni fa ve la ricordate che poi la mandano ancora in onda non mi sono ancora ripresa da ieri non so dove trovare le energie sto faticando e temendo l'arrivo del lunedì non che fine settimana non pesi pesa tantissimo lo stesso però quantomeno c'è un altro adulto in casa con cui prendersela e lei si è svegliata con un attimo di gioia e poi ha ricominciato anche oggi così quindi adesso è andata con il padre a fare una commissione sono passati dal macellaio che sta all'aperto quindi non è una macelleria chiusa quindi non c'è nessun problema e gli ho detto guarda prenditela perché quantomeno è contenta di stare in giro un quarto d'ora mezz'ora fanno avanti indietro e poi tornano non lo so so che la risposta è sì ma ditemelo vi prego datemi un po' di conforto ho bisogno di frivolezze e di conforto ditemi se quando e quanto vi capitano questi momenti di veramente di paura di non non paura di non farcela perché lo sai che ce la fai ma solo perché ce la devi fare per forza perché l'istinto in questo caso sarebbe quello di potendo di mollarli a qualcuno ma non si può dalla serie andate dei nonni per un mese e mezzo come fate a spesso siete voi che lo chiedete a me no? tante persone me lo chiedono ma come fai ad arrivare a fine giornata come fai a sopportare come fai a tirare avanti ora sono io che lo chiedo a voi perché veramente da ieri e anche oggi mi sento quasi una vertigine sicuramente questo questo blocco qui è proprio veramente tensione come si fa ad arrivare al domani lo so che ci si arriva sono passata da queste parti un milione di volte un mal di testa pazzesco va bene divertente avevo necessità di sfogarmi quindi perdonatevi questo sfogo ma ne avevo proprio necessità e quindi ho necessità di un po' di conforto lo ammetto questo giorno 2 e domani anche il giorno 3 domani è la festa della mamma tra l'altro ieri Tommaso ha avuto una una chiamata con le maestre alcuni compagni e le maestre hanno detto di domani insomma hanno commissionato tra virgolette un ritratto alla mamma quindi domani dovrà fare un ritratto al lame poi pensare ad una frase da scrivere io dovrò aiutarlo poi a scriverlo ovviamente quindi domani è la festa della mamma oggi è sabato tra l'altro non ho impastato perché non ne ho le energie vorrei trovarmi quella pizza pronta ma volevo mangiare proprio la mia non ci sarebbe problemi a ordinarla ma no magari rimandiamo a domani ora vediamo se domani mattina ho un pochino più voglia di mettermi a farla o altrimenti se no la ordineremo domani sareciccia e quindi se non dovessi riuscire a montare un pezzettino domani magari giusto per raccontarvi com'è andata oggi oggi tra l'altro mi sono riuscita a farmi perché ieri non sono riuscita a fare neanche i capelli quindi stamattina sono riuscita a farmi una piega decente mi sono data una parvenza di trucco tra l'altro povera me volevo fare una linea di matita sottile invece sono uscite due sberle perché sapete quando poi tendo un po' di qua perché non riesco tanto a girarmi sapete quando fai il primo errore e inizi ad ingrossare 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 e poi magari l'altra ti esce sottile invece la devi ingrossare lo stesso quindi sono uscita questa specie di cose occhi pandiferi però ho cercato di abbinare leggermente il trucco occhi con la maglietta e basta non la smetto perché mi stanno venendo le vertigini e mi sento proprio un gran mal di testa non che io possa stare a letto cosa che probabilmente è anche peggio quando hai questi dolori ma al massimo mi prenderò un brufen per se mi fa ancora mal di testa o dolore mi sa che ora che si è asciugata la pomata mi vado a prendere un cerotto termico tanto di scorta adoro avere sempre qualche cosa speriamo che questo giorno 2 mi porti un pochino più di carica e se no ci vediamo o domani oppure metterò un pezzetto del giorno 3 allegato a questo video 13 minuti come al solito la rubrica ovviamente terminerà perché avevo girato 5 video quindi c'è ancora un video di un altro prodotto viso di cui vi parlo ovviamente è stato girato prima della quarantena in quel video cercavo di capire che cosa voler fare questo fine settimana la risposta è arrivata subito dopo ciao